Quindi è tutto positivo. Vi saluto, vi dico che c'è a disposizione il mio CD, se per caso qualcuno volesse comprarlo. È un CD pubblicato da Fingerpicking, che ringrazio, anche che è qua presente nella veste di Reno Brandoni. Il CD è disponibile e da CD, che si chiama Crossover, vi faccio ascoltare l'ultimo brano, che è l'unica cover che io faccio, che c'è inserita nel disco, è una cover di Parpo, ed è un pezzo completamente stravolto rispetto all'originale, e sometimes I feel like screaming, dei di Parpo. Molto modificato. Vi saluto ancora e grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.